Siamo arrivati al punto che praticamente facciamo la registrazione delle malvoli. Il discorso che voglio fare è questo qua, è molto semplice. Solitamente non bisogna registrarle perché raramente si spostano, prendono gioco. Quello che dovete fare è molto importante se proprio non potete stare fermi con le mani è smontare i coperchi delle punterie senza toccare niente e andate a controllare se i dadini di serraggio dell'alberino piloettante sono chiusi bene perché tante volte mi è capitato che uno di questi era svitato. Se questo qua si svita, l'alberino ruota e va fuori la valvola. Quindi se volete fare una roba molto utile, più che la registrazione delle valvole, controllatemi solo che questi qua siano chiusi bene. Un colpettino senza esagerare. Quella è la cosa importante da fare. Eventualmente se volete fare anche la registrazione delle valvole, allora bisogna attrezzarsi con una chiave da 8 e uno spessimetro. In questo caso nel GP la casa madre consiglia di fare le valvole 015 e 015, sia aspirazione che scarico. Quindi spessimetro da 015 e chiave da 8. Quindi cosa succede? Andiamo a controllare innanzitutto in che situazioni sono le valvole. Questo motore l'abbiamo appena aperta, quindi non sappiamo come cazzo è messo. 015, eccolo qua. Come vi avevo detto, queste qui vanno bene. Sono perfette. Sono perfette. Non dovete toccare un cazzo. Poi vediamo anche quello davanti. Ma queste qui non dobbiamo toccare un cazzo. Perché sono a posto. Non si sono né affossate. Forse queste qui sono un po' lasche. Però, ecco, se vogliamo proprio spaccare la bocchiacca alla formicola, ti ho fatto. Se no, questa qui è un po' lasche. Vediamo se entra il 20. Ecco, per fare la pro, uno cosa fa? Prende lo spessimetro da 20 e vede se passa. E non passa. E quindi, praticamente ci siamo. Facciamo finta invece che ne dobbiamo registrare, perché le abbiamo trovate spostate. Allora cosa succede? Svitiamo i bulloncini. Gli mettiamo il nostro spessimetro da 15 sotto. Dove cazzo è questo qui? Lo mettiamo lì. Con un cacciavite chiudiamo l'alberino. Ecco, deve essere una roba non troppo chiusa e non troppo morbida. Regolare. E poi si va di nuovo a chiudere. Noi abbiamo fatto il gioco valvole. Facciamo finta che qui l'avevamo chiuso. Perfetto. Questa qui è un po' lasche venuta. Allora la chiudiamo ancora un po' di più. Questo è un esempio che vi faccio. se nel caso le troviamo aperte. Esatto. Glielo appoggiate contro e andate a chiudere. Perfetto. Una stretta di sicurezza. Poi li controllate di nuovo. Perfette. Questa qui è rimasta un pochettino più chiusa. ma ecco, perfetto. Perfetto, perfetto. A posto. Praticamente ci siamo. La registrazione delle valvole è fatta. Adesso volevo controllare anche quello davanti. Allora lo concludiamo così, allora. Quindi quello che è importante sapere e fare è assicurarsi che questi quattro dadini qua da otto siano chiusi bene. Perché se si svitano questi qui o che qualcuno è un po' lento ce l'abbiamo nel culo. Abbiamo fatto la registrazione delle valvole del cilindro posteriore. La prassi è questa per tutte e quattro le valvole. Adesso ci spostiamo al cilindro anteriore. Per fare questo dobbiamo portare la fase sul volano sul numero 2 e dobbiamo portare la fase della distribuzione sul castelletto con limare i due puntini. Adesso vi faccio vedere. Dobbiamo esserci quasi, eh? Eccolo lì. Guarda un po' dentro lì se ci siamo lì su due. Qui. Forse non si vede. No. Aspetta un po' che arrivo con la fila. Ho vuoto, ho vuoto. Non c'è? Allora sono andato troppo meno. Aspetta un po' che arriva. Guarda un po'. Piano. E' lì? Piano. Vado ancora un pianino? Sì. Ancora. Ancora. Questa che torna indietro. Ecco. Lì. Lì. Ok. Numero 2. Collimiamo il cilindro A, vuol dire anteriore. Questa linea qui la collimiamo con quel bullino lì. Ci assicuriamo che il pistone è al punto morto, come prima. Con un calciavite mettiamo nella candela e andiamo a vedere che il cielo del pistone è tutto su in alto. Adesso andiamo a controllare anche queste valvole qui. Però da come si muovono già vi posso dire che sono come casa madre l'ha fatte. Andiamo a prendere il nostro spessimetro. Prima ci assicuriamo che sono tutti chiusi. Questo qui è leggermente lasco, ma gli diamo un colpettino giusto a chiudere ancora un pelino. Perfetto. Andiamo a vedere un po' di fare anche qui la prova dello spessimetro. Ciao, Mimu. Cosa cazzo? Il 20 e il 15. Eccolo qua. Lo mettiamo dentro lì. Andiamo a controllare. Qui è un po' più cagamento di cazzo perché però ragazzi senta. Ecco, questa qui è un po' l'asca, ma ma proprio se vogliamo fare i pidocchiosi eh fammi vedere questo di sotto ve lo scarico ma sono leggermente lasche per cui procedo a fare la regolazione. però vi ripeto è talmente minima la roba vuoi la luce? No. È talmente minima la roba che che non starei nemmeno a regolarle. Queste qua di aspirazione sono buone queste qua di scarico le faccio un attimo così vi faccio vedere come si fa. Allora, quindi abbiamo detto che sono un po' l'asca noi apriamo il dadino da 8 lo apriamo a tutti e due poi con un cacciavite io faccio l'unghia a uso. andiamo a mettere contro la valvola il registro ci assicuriamo che non stringe troppo deve fare questo movimento qua non deve essere duro chiudiamo lo controlliamo di nuovo perfetto così facciamo anche l'altro vedete che entra troppo liberamente così allora cosa facciamo? abbiamo detto andiamo dentro con il cacciavite perfetto così e gli diamo una botta vediamo la bottarella vediamo com'è e poi lo vediamo subito perché facendo così c'ha quel leggero che deve chiudere e non deve essere sforzato deve essere libero ma deve essere frizionato perfetto praticamente ragazzi allora facciamo le conclusioni vi faccio i saluti come vi dicevo all'inizio questo qua è un motore che c'è a 70.000 km casa madre originale quindi vi avevo già detto che le valvoli sul GP non si registrano mai però era solo per farvi vedere che se nel caso avete un motore in mano così a portata di mano e volete fare una controllata la prima cosa da fare è chiudere questi quattro dadini perché questi qua mi è successo un paio di volte che se uno di questi era svitato poi va dentro macina qualche cosa nel fuoco quindi le valvoli del GP non si muovono mai da quello che se le sentite un pochettino che puntano un pochettino che magari sono rumorose tante volte non ne sono nemmeno le valvole ma è il ten di catena che che fa il saltino per cui abbiamo fatto tutto stavolta ce la siamo cavata con poco hai visto così almeno ve li potete guardare in santa pace e il prossimo video se mi consigliate se mi dite voi che cosa vi serve io ve lo faccio fatemelo sapere e se avete bisogno di un video in particolare io ve lo faccio grazie a tutti